Continua la grande opera di rinascita della città di Assisi con prima il governo di Giorgio Bartolini, ora con il sindaco di Claudio Ricci, è la volta del bellissimo restauro della volta pinta, che è un ultimo atto di un progetto di restauro portato avanti da tutte queste due amministrazioni con grande successo, finalmente portato a termine. Dottoressa Francesca Cristoferi, qual è il significato sinteticamente di questo importante restauro? Il significato di questo intervento è stato quello di un recupero non solo materiale di un bene così esposto alla pubblica fruizione come è il complesso decorativo della volta pinta, ma come ci ha fatto capire molto bene il professor Ezio Genovesi, l'altro importante risultato dell'intervento è stato il recupero integrale del significato che sta alla base di questa pittura, cioè della storia culturale di questi dipinti. Ecco, in una zona praticamente strategica della città, in pieno centro, l'allora governatore sentì la necessità in qualche modo, da come ci è stato spiegato appunto il professor Genovesi, di ricordare un qualcosa che era a lui accaduto. È un po' questo la sintesi e ora un modo un po' per passare alla storia in qualche modo con un monumento. Questo ma anche molto altro, cioè insieme a questo episodio tutti vuole portare verso il pubblico la cultura dell'accademia, la cultura più aggiornata dell'epoca, in un'integrazione tra vicende personali e cultura dominante, cultura letteraria dominante all'epoca. Un altro passaggio importante per la città di Assisi ma anche per l'amministrazione è questo restauro della volta pinta che è un po' anche un passaggio dall'amministrazione del sindaco Bartolini a quella di Claudio Ricci, un progetto comune che avete portato a termine e che rinchisce ancora di più una zona nevralgica della città. Sì, abbiamo inaugurato questo pomeriggio il restauro della volta pinta riportando in luce gli affreschi originali del 1556, un'opera cominciata dalle amministrazioni Bartolini e conclusa da questa amministrazione comunale in linea con un impegno di oltre 11 anni dal 1997 ad oggi con oltre 1100 interventi di restauro realizzati tra grandi basiliche, chiese, restauri di edifici pubblici, di edifici privati, riqualificazione di piazze ed ora stiamo realizzando numerose opere pubbliche, nuove infrastrutture a partire dalla nuova viabilità i sottopassi, i parcheggi e ovviamente tutte le aree di riqualificazione degli spazi urbani e i contenitori, palazzi storici nella città murata e archeologie industriali nell'area più accessibile di Santa Maria degli Angeli da poter utilizzare per eventi e attività culturali. Il restauro della volta pinta è un restauro molto particolare un grottesco importante non solo per lo stile grottesco ma anche perché rappresenta un passaggio fondamentale della città come è stato ricordato durante il convegno tra l'antica nobiltà e quella nuova nobiltà dei mestieri delle arti che nel 1556 con la volta pinta lascia un segno quasi un manifesto di questa nuova nobiltà. Credo che sia importante anche la storia che ovviamente include la volta pinta i particolari, ecco i tanti particolari, i simboli e il recupero dei particolari e dei simboli è molto importante perché proprio spiegando, illustrando i particolari e dei simboli che si può creare un'emozione, una storia, una storia attraente per i cittadini ma anche per gli ospiti della città serafica. Ecco, volevo dire e sottolineare proprio questo doppio aspetto non solo il recupero e il restauro di un'opera importante dal punto di vista architettonico ma anche dal punto di vista simbologico per i significati che questa nascondeva e che oggi hanno una lettura più ampia. Sì, ci sono dei particolari che apparivano degli oggetti diversi da quelli reali e che invece ora i restauri riportano in luce nella loro originalità e questo è un fatto molto importante. Noi continueremo a lavorare sul recupero di altri spazi. Durante il convegno io citavo il recupero della Sala delle Volte e del Foro Romano un'altra opera importante che stiamo concludendo così come tra breve recupereremo anche un cunicolo romano che fa parte del recupero di un percorso meccanizzato che collegherà meglio il centro storico con uno dei parcheggi più importanti della città così come stiamo recuperando la Domus Romana un'altra opera importante e così come continueremo nel prossimo anno ad aprire i tre palazzi importanti Palazzo Vallemani già aperto e sede della Pinacoteca dove stanno continuando i lavori di riqualificazione a breve riapriremo Palazzo Bernabei e Palazzo Monte Frumentario ricostituendo questa tria di edifici storici lungo l'asse portante della città che noi vorremmo utilizzare sempre più e meglio per attività culturali incontri, musei e attività di livello universitario stiamo quindi camminando verso l'anno 2009 che per noi sarà non solo l'ottavo centenario dalla fondazione dell'ordine francescano ma sarà anche il settimo centenario dall'arrivo di Giotto ad Assisi i documenti ci dicono che arriva in Assisi il 2 gennaio del 1309 e lì comincia con una innovazione, la prospettiva, la tridimensionalità l'arte pittorica italiana ed europea e noi ci auguriamo che tutto questo possa essere il viatico migliore per la candidatura di Assisi a diventare nel 2019 capitale europea della cultura